Sarà un 8 marzo amaro, macchiato da un brutale femminicidio a pochi giorni dalla festa delle donne, l'assassinio della trentenne salernitana Anna Borsa, uccisa con un colpo di pistola alla testa dal suo ex fidanzato. Nessuna mimosa per la bella Anna e per chi resta un dolore indicibile, reso ancora più insopportabile dalla consapevolezza che qualcosa, forse, si poteva fare per salvarla. Come ricorda l'avvocato della famiglia Borsa, Stefania De Martino, ospite della trasmissione di Otto Channel Punto di Vista, condotta dal direttore Pierluigi Melillo. Molto probabilmente, ma poi ci saranno gli organi competenti a ricostruire tutta la vicenda, lei era stata già minacciata di morte, proprio qualche giorno prima. Per essere così esasperata vuol dire che veramente sentiva il pericolo. Le segnalazioni ovviamente ci sono state, più di una. Fondamentale informare le donne che subiscono simili molestie perché non accada più quello che è accaduto ad Anna. Le donne non vanno convinte a denunciare, le donne vanno accompagnate in questo percorso, perché già bussare a una porta di un centro antiviolenza, già parlare con un legale qualsiasi in uno studio di una situazione così intima per le donne non è cosa semplice. Quindi noi dobbiamo fare in modo che queste donne vengano con noi a denunciare, vengano supportate nel momento della denuncia. Gli operatori piuttosto che gli esperti sanno quando la situazione può sfuggire di mano.